Stai pensando di acquistare una nuova fotocamera e ti sei impallenato sulle specs di Canon EOS R7? Oggi siamo qui proprio in compagnia di questa nuova fotocamera che mi sta dando un sacco di soddisfazioni. Premetto che io la sto utilizzando esclusivamente per fare video, quindi lato fotografico non l'ho ancora sperimentata a fondo perché la sto utilizzando puramente come videocamera. Ho già pubblicato un paio di video su questo argomento in cui vi faccio vedere l'unboxing e vi faccio vedere quali sono le impostazioni che utilizzo prevalentemente per girare video con questa fotocamera. Vi lascio in card i due video, andateveli a recuperare se non li avete ancora visti. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Come vi dicevo oggi parliamo nuovamente di Canon EOS R7, lo facciamo andando a vedere quelli che sono i bottoni e come è stato configurato il body della fotocamera. Quindi andrò a farvi vedere dove sono posizionati i pulsanti principali e a che cosa servono. Bene amici, eccoci qui con il nostro corpo macchina. La prima feature di cui vi vado a parlare è questa che spero che riusciate a vedere. Qui sul fondo del body è stato inserito un selettore che ci permette di selezionare la messa a fuoco automatica o la messa a fuoco manuale. È una feature interessante perché, come ho potuto constatare, ci sono delle lenti per mirrorless che non hanno il selettore automatico manuale sul corpo, quindi avere questo selettore sul corpo macchina è molto importante perché mi dà la possibilità di gestire più facilmente gli obiettivi che sono privi di questo selettore. Andiamo a vedere insieme il di sopra del case. Allora, ovviamente qui abbiamo il nostro shutter, qui abbiamo il bottone per far partire la registrazione dei video, qui abbiamo ovviamente la rotella con la selezione della modalità di acquisizione immagine. Qui, spero che riusciate a vedere bene, abbiamo un bottone che è customizzabile. Questo qui si può assegnare una funzione qualunque, io per il momento gli ho assegnato la funzione bilanciamento del bianco, quindi quando premo questo bottone posso gestire il bilanciamento del bianco a monitor. Qui abbiamo ovviamente la rotella per gestire i tempi. Subito sopra abbiamo il pulsante ISO, quindi alla pressione di questo bottone controlleremo gli ISO sempre a monitor. Qui abbiamo un bottone lock. Questo è un bottone che sostanzialmente inibisce i comandi della fotocamera, quindi se stiamo lavorando e non vogliamo che la nostra ripresa subisca modifiche possiamo bloccare tutto in maniera tale che anche se premiamo dei bottoni non succede niente, poi se lo ripremiamo lo sblocchiamo. Qui abbiamo la seconda feature che vi faccio vedere che a me è piaciuta moltissimo. Questa è una miglioria rispetto a tutti gli altri corpi macchina della serie R. Qui come potete vedere abbiamo il selettore dell'accensione che però ha tre posizioni, quindi questa è una cosa che viene recuperata dalle vecchie fotocamere entry level che avevano tre posizioni sull'interruttore, e avevano appunto spenta, accesa sulle foto e accesa per i video. Questa sembra una cavolata ma è importantissimo perché la fotocamera ha due sistemi operativi, uno per le foto e uno per i video, quindi a seconda di che cosa io seleziono è proprio completamente diverso il menu, l'interfaccia e le impostazioni che possiamo dare alla fotocamera. Se vogliamo girare video ovviamente mettiamo le impostazioni video perché avremo un menu molto più ricco con cui fare le nostre scelte. Veniamo al retro della nostra amica. Qui abbiamo i soliti bottoni che siamo abituati a trovare un po' su tutte le Canon, quindi abbiamo l'anteprima, abbiamo il cestino per buttare via le immagini che ci sembrano venute male, abbiamo una rotella con... no scusate non è una rotella, è un tasto a croce con cui possiamo navigare nei menu, abbiamo il tasto Q, il tasto Q che vedete ci richiama le impostazioni, quindi siamo in grado di fare le nostre scelte con il tasto Q per tutto quello che riguarda impostazione, bilanciamento del bianco e parametri vari. Abbiamo il tasto info, il tasto info serve a modificare quello che vediamo a monitor, quindi io questo lo posso impostare all'interno dei menu perché posso decidere che cosa voglio vedere su ciascuna di queste schermate, posso decidere se voglio l'istogramma, posso decidere se non voglio niente, voglio l'immagine pulita, ciao, posso decidere se voglio vedere i parametri e basta, quindi tasto info per quanto mi riguarda essenziale, utilissimo. Qui c'è il tasto AF on, questo tasto, sentite il bip, questo tasto semplicemente mette a fuoco, e vedete che mette a fuoco sul mio occhio in questo momento perché ho il tracking e ho l'iFocus attivo. Attenzione, nuova feature, la terza che andiamo a vedere oggi, quindi l'ennesima miglioria, come potete vedere qui abbiamo il joystick, esatto, per i fanatici del joystick finalmente abbiamo anche il joystick, vi dirò che io lo uso molto poco, però c'è e insomma averlo non fa mai male, nel senso che se te lo mettono poi lo usi, quindi abbiamo il joystick che è inserito all'interno di questa ghiera che è la ghiera dei diaframmi, quindi qui abbiamo la doppia possibilità sempre con il pollice di gestire sia i diaframmi che di avere un controllo abbastanza preciso all'interno del menu, quindi ne abbiamo due, possiamo scegliere di navigare nei menu col tasto a croce oppure col joystick, col joystick possiamo anche fare tante altre cose, possiamo essere più incisivi perché è omnidirezionale, e qui abbiamo i nostri soliti due bottoni, ci sono su tutti i corpi macchina Canon, uno per bloccare l'esposizione, l'altro per... sono personalizzabili anche questi, mi sembra che gli si possano abbinare delle funzioni, però per il momento servono per ingrandire dentro nei menu e per bloccare l'esposizione, se ricordo correttamente, non li uso tanto questi tasti, confesso. Sul lato opposto della camera abbiamo il pulsante menu che è stato, come potete vedere, è stato relegato qui, probabilmente perché si è pensato che verrà usato poco, non lo so, posso solo immaginare una cosa del genere, è stato relegato da questa parte, per cui è l'unico bottone per cui siamo costretti a utilizzare l'altra mano, perché per quanto riguarda il resto dei bottoni, come potete vedere, sono tutti accessibili con una mano sola, quindi solamente nel momento in cui voglio andare ad agire sul menu dovrò utilizzare un'altra mano, perché tutti gli altri bottoni sono assolutamente accessibili con una mano sola. Veniamo all'ultimo lato, il lato mancante, allora come potete vedere io qui ho scoperchiato l'ingresso cuffie, perché io uso sempre dei microfoni esterni, vi lascio in card un mio video in cui vi parlo dell'importanza di utilizzare dei microfoni esterni quando si registra video, mai usare il microfono della videocamera, usate sempre un microfono dedicato, quindi abbiamo la possibilità di entrare con un microfono, ancora più importante abbiamo la possibilità di monitorare quello che stiamo facendo, perché abbiamo un'uscita cuffie e poi abbiamo le solite cose, l'uscita HDMI, l'ingresso per un comando remoto, quindi le solite feature che troviamo su quasi tutte le fotocamere di fascia media o medio alta. Per quanto riguarda il sotto, qui come potete vedere abbiamo il vano di alloggiamento batteria, la batteria è la stessa della Canon EOS 5D, della stessa della 6D, è la stessa di tutte le fotocamere di fascia professionale o semiprofessionale, la batteria è sempre la stessa che è la LPN, non mi ricordo più, però insomma è sempre la stessa, ci sono delle modifiche, questa qui è una batteria migliorata, però in questo momento io sto utilizzando la batteria della Canon 80D all'interno di questo corpo, quindi funziona, funzionano tutte, non ci sono grossi problemi. Ultimo lato che manca e anche qui devo dire che secondo me è stato fatto un ottimo lavoro, ora io vado a spegnere la fotocamera, ok la spengo perché apro il vano delle memory card, spero che riusciate ad apprezzare, allora qui abbiamo per i fanatici del dual card slot, abbiamo per l'appunto il dual card slot e qui abbiamo la nostra memory card inserita, io ne utilizzo una sola, comunque abbiamo la possibilità di utilizzarne due, quindi fantastico. Beh ma allora cosa ve ne pare di questa camera? A me sta piacendo veramente un sacco, la sto usando solamente per fare video, quindi non ho la minima idea di come renda come macchina fotografica, fotografica, però sono veramente molto molto soddisfatto, per il prezzo che l'ho pagata sono veramente contento. Bene, come avete potuto vedere si tratta di un corpo macchina abbastanza completo secondo me, ci sono delle features che la rendono assolutamente appetibile per il mercato professionale, è un sensore con tanti megapixel, è un sensore che performa molto bene perché è abbinato a un processore di ultima generazione, ha delle caratteristiche che la rendono molto molto interessante sia per il mercato prosumer che per quello professionale. Personalmente io la sto utilizzando in ambito professionale, devo dire che mi trovo molto bene, non ci sono grossi problemi di surriscaldamento, non ho notato grossi flow dentro nella costruzione, la camera sta bene in mano, quindi nonostante sia una mirrorless sta abbastanza bene in mano, insomma che dire, sono veramente molto contento del mio acquisto anche perché ero indeciso tra questa e Canon EOS R6, che però costava molto di più, aveva delle caratteristiche che mi indispettivano un pochino, perché stiamo parlando di una fotocamera da 20 megapixel, allora 20 megapixel per i lavori che faccio io sono un po' pochi, a me sarebbe piaciuto averne 24, 26, una cosa così, nell'ordine dei un po' più di 20. La Canon EOS R7 ne ha 30 e quindi sono andato al volo su questa perché ho detto questa mi dà sia i megapixel che voglio, lato fotografico se mi dovessero servire, ma mi dà anche delle possibilità video che reputo più interessanti per quel prezzo, quindi costa di meno, mi dà fondamentalmente gli stessi formati della EOS R6, non proprio gli stessi perché R6 è più forte sul video, ma i formati più forti di R6 sul video io non li avrei mai usati, quindi con questa ho tutto quello che mi serve, inoltre questa registra 10 bit 422 internamente, quindi veramente direi che non le manca proprio nulla. A questo punto io direi per tutte le domande ci vediamo nel box qui sotto, vi aspetto, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa fotocamera, se ce l'avete già, se vi ho convinto a comprarla o se vi ho convinto a non comprarla e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!